Scherzare nel modo sbagliato con il tenore, può avere delle conseguenze ed è ciò che è accaduto a Davide Silvestri che ha fatto infuriare la Ricciarelli. Davide Silvestri ha definito ironicamente Katia Ricciarelli, vecchietta, scherzando con Barù. A questa parola il tenore è andata su tutte le furie e si è scagliata contro l'attore che ha tentato inutilmente di calmarla. La GFina ha persino minacciato l'attore di dargli uno schiaffo. Poi la Ricciarelli dichiara, non le voglio le scuse, bisogna stare attenti a quello che si dice. Oggi Valeria si è arrabbiata perché uno le ha detto, Valeriona. E a me venite a dire, vecchietta, e lui, Barù, ribadisce cos'hai con quella vecchietta, no. Ragazzi, arrivate ai miei anni come sono arrivata io, con il bagaglio che ho io. State esagerando, state oltrepassando il limite, non solo in questa situazione ma anche in altre cose, state attenti a come parlate. Io non mi voglio offendere ma non posso evitare adesso di essere addolorata. Lasciatemi andare a letto così mi faccio il mio piantarello. Grazie. Grazie. Grazie.